Noi abbiamo al telefono Antonella Falugiani, presidente di Cordown. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per averci invitato. Grazie a lei di essere qui. Quindi io le chiedo come prima cosa, quali sono gli intenti di questa raccolta firme? Quali sono i punti critici su cui si chiede di intervenire per cambiare la rotta? Sì, certamente. Allora, gli intenti della raccolta firme, comunque di questa petizione sono quelli di essere ascoltati ai tavoli istituzionali, proprio perché ci sono principalmente quattro punti sui quali noi stiamo contestando. Come giustamente diceva lei, è messa a rischio l'inclusione, l'inclusione scolastica e quindi per questo stiamo cercando di mobilizarci anche con l'iniziativa del flash mob che ha avuto successo sabato, ma che è possibile ripetere e continuare a seguire in questi giorni proprio per manifestare il nostro distenso. I punti sono quattro, quelli su cui noi abbiamo puntato l'attenzione e il rifiuso di poter esonerare da alcune materie. Il principale è la riduzione dell'orario scolastico proprio perché non possiamo accettare di educare i nostri figli, che comunque saranno la società di domani, con l'idea che se ci sono delle difficoltà o delle disabilità la strada è quella di fare un percorso a parte e quindi di escluderli. E questo appunto, come diceva lei, un po' ripercorre questo momento della presenza adesso di un ministero per le disabilità. L'altro, il terzo punto è la modalità di decidere il sostegno attraverso il debito formativo, che già come terminologia non è delle più indicate. Il debito formativo, praticamente ora non so se è il caso di entrare nei tecnicismi, però è poter misurare tramite delle tabelle, per semplificare, quello che è la differenza, il gap tra l'alunno, il bambino con una disabilità e un alunno normotivo. E quindi in base a questo stabilire le ore di sostegno e di supporto. E il quarto punto, non ultimo, la presenza della famiglia all'interno del GLO, che in questo momento è stata indicata come partecipante. La famiglia partecipa al GLO, ma non ha più un potere decisionale come lo era fino a ieri. Quindi invece per noi la famiglia ha un ruolo fondamentale, proprio perché nell'educazione del proprio figlio ha il diritto e il dovere di intervenire se qualcosa non è chiaro o non è condiviso. Queste quindi sono le quattro criticità principali che contestate. E cosa proponete come controproposta? Penso ad esempio anche al debito formativo, effettivamente non solo il nome non è particolarmente avvincente, ma proprio mi pare anche tutta la modalità si struttura in modo un po' discutibile. Rispetto a queste quattro criticità, cosa proponete? Bene, è un modo proprio del tutto diverso di vedere la scuola e l'inclusione scolastica. Prima di tutto dovremmo comunque prevedere la formazione a tutti i docenti, quindi i docenti curricolari e non i docenti di sostegno. E questo proprio per agevolare l'inclusione, perché questo succedeva comunque anche fino ad oggi. Più viene formato l'insegnante di sostegno e più il docente curriculare tende a delegare il sostegno per quel determinato alunno. E quindi cosa fondamentale innanzitutto è conoscere, essere formati, dopodiché è possibile pensare a un percorso modulato sulla persona, sulle possibilità della persona, perché come abbiamo detto anche nel nostro slogan, c'è sempre un modo semplice per spiegare le cose difficili. E quindi questo sicuramente negli apprendimenti molto influisce anche la classe, i compagni, perché molto spesso si apprendono più cose tramite limitazione o comunque la partecipazione del lavoro di classe. Se ci dovessero essere dei laboratori, benvengano, ma laboratori eterogenei formati da piccoli gruppi di compagni dove si possono approfondire dei temi, perché poi il problema non è solo della persona con una disabilità intellettiva o di altro tipo, ma ci sono tematiche all'interno di un gruppo classe che possono essere benissimo approfondite con piccoli gruppi. Quindi è una visione generale, globale, un po' diversa da ciò che è stato proposto. Quindi principalmente si parla di inclusione, una scuola che sia inclusiva, che tratti tutti gli studenti allo stesso modo e permetta a tutti di partire dalle stesse basi e arrivare agli stessi risultati? Sì, sicuramente. Se non agli stessi risultati, perché questo sicuramente non sarebbe possibile, ma dare a tutti la possibilità di partecipare e di potersi inserire in un gruppo classe con i compagni proprio per poter ottenere il massimo possibile da quell'individuo, da quella singola persona, da quel singolo studente. Come proseguiranno adesso? Come continuerete a farvi sentire? Lei prima accennava il fatto che il flash mob è ancora, diciamo, attivo. Come porterete avanti la vostra attività? Bene, sicuramente io invito tutti gli ascoltatori a firmare la petizione, perché chiaramente più siamo e più rappresentativi saremo anche i tavoli istituzionali. Noi attendiamo di essere ascoltati dal Ministero dell'Istruzione principalmente e poi vedere al tavolo come è possibile eventualmente modificare almeno questi punti chiave, questi punti cardini che noi abbiamo contestato. Antonella, un'ultima domanda prima di lasciarci. Il Covid, la pandemia ha messo in crisi la società, la scuola in generale, ma probabilmente all'interno della scuola qualcuno ha sofferto di più. Sì, all'interno della scuola sicuramente e non solo all'interno della scuola. Purtroppo i nostri ragazzi già hanno una vita sociale limitata e quindi sicuramente la scuola è ed era un momento di aggregazione che è venuto a mancare. La didattica a distanza ha penalizzato i nostri alunni, i nostri figli per più motivi, inizialmente proprio per una difficoltà nel collegarsi, nel seguire le lezioni. E poi, talune volte, anche diciamo con il rientro in classe abbiamo assistito a casi, diciamo, dove i ragazzi erano isolati, c'erano da soli in classe con l'insegnante di sostegno a seguire la lezione. Quindi anche qui ci sono state diverse difficoltà e poi speriamo che con l'arrivo dei vaccini si possa anche giungere a una, non dico normalità, ma insomma tornare in classe e poter proseguire il percorso scolastico veramente in modo più inclusivo possibile.